I banchi a rotelle, Piloso sa quanti sono i banchi a rotelle? Gli lo dico io, sono circa 400, dopo le mando un Whatsapp con il numero esatto aggiornato ad oggi, sono poco più di 400.000, saranno 450.000, ora glielo do al banco, all'unità ultima di banco, su 2 milioni e mezzo di banchi. Sa chi li ha ordinati i dirigenti scolastici? Per mesi, 2.426.665 banchi consegnati, in 16.213 plessi scolastici. Le fonti terrà, diciamo, a futura memoria questa mia generazione, di questi 424.414 sono a rotelle, 17.5%. Ora, io capisco tutto, ma aver fatto diventare i banchi a rotelle, come i divisori, se li ricorda i divisori di plexiglass nelle scuole, che non ci sono mai stati. Salvini per due mesi è andato in giro in tutte le televisioni a dire che ci sarebbero stati i divisori di plexiglass. Non ci sono mai stati. I banchi a rotelle li hanno ordinati alcuni dirigenti scolastici perché ritenevano che fossero più utili da spostare in alcune aule in cui c'erano un certo tipo di spazi. Lo ripeto, su 2 milioni e mezzo di banchi, il 17% erano banchi a rotelle. È diventato un dibattito nazionale. Io capisco l'importanza del banco a rotelle, ma non capisco l'energia messa da alcuni autorevoli commentatori su questa roba.